e ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video io sono mister mario e oggi siamo sul magico mondo di minecraft ragazzi in questa puntata volevo subito esplorare le nether quindi avevo pensato una cosa bella una cosa carina che potremmo fare direttamente lì allora faremo ragazzi le puntate saranno diverse una puntata sì una puntata no andremo ad esplorare il nether oppure tutto il mondo una puntata la faremo in creativa creando cose invece una la faremo in sopravvivenza questa serie la porterò moltissima in avanti perché mi piace troppo minecraft è un gioco bellissimo per me è un gioco bellissimo niente ragazzi possiamo cominciare qui diciamo che è abbastanza sperduto potrebbe andare bene e quindi sì lo faremo qui proprio qui ragazzi ho sbagliato subito in partenza d'accordo possiamo cominciare facciamo una specie di piramide e nell'entrata ci sarà il portale per il per land portare per il nether è sbagliato faremo un portale tipo 6 per 6 quindi allora 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 ok ragazzi questo però forse sei per sei un po troppo piccolo dobbiamo provare in grande gruppo tipo 10 per 10 quindi allora questo è 4 5 6 7 8 scusate 9 e 10 questo è 10 ma si 10 per 10 può anche andare bene quindi ragazzi faremo un 10 per 10 può anche andare benissimo quindi allora 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 fu ma che cavolo è successo adesso ragazzi si è smontato tutto benissimo per essere logici perché questo gioco non lo è molto faremo un po così guardate andremo a far arrivare sotto sotto così andremo ecco così almeno è un po più logico ok adesso l'entrata è di qua scendiamo e qua c'è l'entrata poi dicevo qui c'è il secondo strato poi vabbè non serve a niente contare basta contare basta contare l'inizio poi è tutto fatto e pian piano si chiude la piramide stanno facendo la partita dell'italia ragazzi ecco qui intanto ragazzi collegheremo alla mia casa alla coltivazione e alla miniera e qui intanto continuiamo a chiudere ragazzi so che è un lavoro noioso infatti lo taglierò e ci vediamo quando ho finito di costruire la piramide ciao ragazzi ok ragazzi abbiamo finito di costruire la piramide e dentro è ancora vuota però adesso costruiamo dentro e iniziamo col pavimento togliamo tutta la sabbia e mettiamo tutta la sabbia e ci mettiamo il quarzo il quarzo che mi piace molto metteremo il piastre di quarzo attento sposto la telecamera intanto mettiamo dove serve almeno qui possiamo mettere la porta faremo solo indeciso tra la porta normale quella in metallo perché vabbè il metallo è un po' più difficile però sono indeciso ragazzi sono indeciso lo decideremo dopo perché adesso tanto dobbiamo pensare al pavimento vi voglio risparmiare anche il pavimento quindi prima di stoppare un attimo posto delle uova ci metto ok ragazzi ok e quindi ci rivediamo a dopo ciao ciao ragazzi ho cambiato leggermente idea non voglio più fare qui il portere nel nether ma lo farò da un'altra parte che poi vi spiegherò nei prossimi episodi ma voglio provare a fare una fontana allora allora e questo questo e ho sbagliato qualcosa quindi non faremo una fontana ma faremo un'altra un'altra cosa cioè ragazzi volevo provare a fare questo guardate aspettate aspettate sto cercando di trovare allora mi servono gli scalini di quarzo eccoli ecco no in centro ragazzi in centro ok prendere un blocco di quarzo che è questo metterlo lì poi questo da ceraino prendere un pezzo di carne qualsiasi cos'è ragazzi se ho cambiato location ma non si sa sette sto dicendo prendiamo della pelle di coniglio e ce lo mettiamo aspettate se riesco ragazzi se riesco ingiornarmi bene ce lo posso fare però non ci sono posti vuoti questo potrebbe essere un problema quindi ragazzi qua direi di mettere e e non si può mettere neanche questo quindi ragazzi diciamo che questa è una specie di altar per i sacrifici animali immobili e ovviamente mi arrivano i messaggi di clash of clans e mettiamo qualche torcia qua e la tipo non trovo le torce però sono abbastanza sicuro che siano qui eccole infatti mettiamo una qua una qua ok così dovrebbe andare bene poi ragazzi collegherò in un altro episodio ecco qua collegherò in un altro episodio intanto sembrava di vedere una faccia sorridente ok ragazzi ok ragazzi e niente finiamo qui intanto devo aggiornare la mappa che ha preso il nuovo non lo so questa è la vecchia ma questa mappa questa mappa ce l'ho da da prima ragazzi e adesso è comparsa la piramide si questa mappa è strana va bene ragazzi se il video vi è piaciuto lasciate un commento mi piace qua sotto nella pagina di facebook e noi ci rivediamo in un prossimo video ciao ciao al prossimo episodio ciao